Ehi ragazzi, mi presento lo spirito del vento! Pista, fate l'arco! Non per comitare! Ti terrai i capelli ma non trovo più le braccia! Ehi, basta! Elza! Lascialo andare! Elza, sta' attenta! È mia sorella! Principezza! Per Alan, bella! La terribilità! Tutto a posto? Sto bene. Che cosa sono? Oh, sembrano frammenti di vita. Cos'è che dici sempre tu, Olaf? Cosa? Oh, la mia teoria sul progresso tecnologico come nostra salvezza e condanna? No, non la... non quella. Quella su... Quella sui cetrioli? No, quella cosa sull'acqua! Oh, certo! L'acqua a memoria. L'acqua che compone te e me è passata almeno attraverso quattro umani o animali prima di noi. E ricorda ogni cosa. Il vento è tornato! Simpatico! Credo che ti chiamerò Zefiro. Ma dove vedi, Fili? Ciao! Sei un po' curioso. Sei più calmo adesso? Papà! È papà! E questa ragazza... Lo sta salvando! È una nortoldra!